il festival apre subito stasera le scene su Marsala appunto di tre giornate, tre giornate particolari, la tappa principale del festival quest'anno è Marsala che è capitale europea del vino, queste tre serate appunto sono state da noi fortunatamente volute assieme all'amministrazione comunale di Marsala, io ringrazio il sindaco Giulio Adamo e tutta l'amministrazione, l'assessore Patrizia Montalto, il festival è patrocinato ricordiamo dal Ministero delle politiche agricole dalla regione siciliana, in particolare dall'Istituto Vini e Ol di Sicilia, da Marsala città del vino con la rete Reggevin delle città europee del vino, inoltre è patrocinato dal Valente Parco della Valle dei Tempi di Agrigento, da tutti i comuni che il festival tocca durante questo suo passaggio e da Audi Italia attraverso i concessionari di Zonat. Questa sera iniziamo con una band giovanissima, ma veramente di grande talento, loro vengono dall'Olanda, vengono da Amsterdam, sono dei ragazzi favorosi che hanno vinto nella loro patria, cioè in Olanda hanno vinto l'European Blues Challenge per le band olandesi, io sono contento, abbiamo già suonato con loro durante le scorse serate nella Valle dei Tempi di Agrigento e hanno avuto già un bellissimo successo, spero che lo continueranno qui stasera in questa bellissima piazza di Marsala e pertanto io presento, sono contento di presentare insieme a voi la band di appunto Sugar Boy and Sidious. altissima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti